Continuiamo il viaggio all'interno della scultura di Bernini presentando il busto di Paolo V Borghese della Galleria Borghese. Questo piccolo busto di ridotte dimensioni, sono circa 33 centimetri di altezza, dimostra una sensibilità nella ritrattistica berniniana che arriverà a un virtuosismo illusionistico a partire dagli anni venti del Secento. Questo carattere quasi caravaggesco per il valore materico e luministico della scultura è evidente nella volontà di identificare i diversi materiali quali diversi tessuti o l'effetto di una sensibilità epidermica nel volto. Cioè questa volontà di Bernini di plasmare il marmo e di rendere tangibili, concreti, quasi con una sensazione tattile i diversi materiali di cui è fatta. Analizziamo. Bernini in questo caso nel volto con questa fronte leggermente corrucciata realizza gli occhi di Paolo V con degli occhi infossati, con questa espressione abbastanza cupa, abbastanza arcigna, severa. Gli occhi sono privi delle pupille, cosa che realizzerà più avanti. Questa staticità, fissità, potremmo dire anche grafica di questo busto, è tutto risvolto e risolto in questa tensione naturalistica concentrata proprio su queste superfici. La stessa illuminazione rivela anche attraverso una luce radente dei momenti davvero entusiasmanti di questa ricerca, di questa sperimentazione di Bernini. Nella ricrescita dei capelli nella zona del capo, proprio sulla tonsura, la barba che ricresce lungo le guance e soprattutto la stoffa inamidata dell'ammitto, con queste pieghe così spigolose, aguzze intorno al collo, il pizzo stesso che è evidente e risalta, si piega il pizzo di questo camice sul pesante velluto del piviale. Un piviale che reca delle sculture davvero, possiamo dire, dei bassorilievi, ma che sono appunto delle tramature del tessuto di velluto con il San Pietro e il San Paolo, ovvero l'attributo convenzionale per il santo romano pontefice. Analizziamo adesso le quattro mirabili sculture della Borghese, i quattro grandi gruppi statuari dell'Enea, Anchise e Ascanio in fuga da Roma, del Ratto di Proserpina, del David e di Apollo e Daphne. L'Enea e Anchise e Ascanio, questa ammirabile, straordinaria scultura monumentale, la sua verticalità, la complicatezza della composizione ha indotto alcuni studiosi a pensare che fosse un'opera ancora tardo manieristica, di collaborazione, di gusto tardo manieristica, di collaborazione con il padre Pietro, o addirittura ad attribuirla allo stesso Pietro, ma dei documenti ritrovati e soprattutto il ritrovamento del pagamento per il gruppo scultorio appartenuto al cardinal Scipione Borghese ha finalmente risolto qualsiasi dubbio sulla tuografia. A Bernini fu chiesto di tradurre in marmo il celebre episodio tratto dal secondo libro dell'Eneide, tanto spesso raffigurato proprio nelle arti figurative, nelle arti plastiche, nelle arti pittoriche. Il tema è quello di Enea che fugge dall'incendo di Troia recando sulle sue spalle il padre Anchise, ormai paralizzato, ormai anziano, e il piccolo figlio Ascanio. Ascanio proprio porta con sé l'eterno fuoco custodito nel Tempio di Vesta, mentre il nonno regge il vaso sul capo di Enea, questo vaso con le ceneri degli antenati, e sono evidenti proprio nella parte superiore, e sono i simboli più sacri del potere troiano che vengono sottratti ai greci e condotti in un lungo viaggio che si concluderà secondo appunto lo scritto virgiliano nella fondazione di Roma. Questa scultura era collocata nella villa del cardinal Borghese, che in quel momento era il vero dominus di Roma, e il gruppo funzionava anche come rappresentazione e legittimazione del potere. Alludeva anche al sostegno che alle spalle metaforiche del giovane cardinale offrivano al governo del vecchio zio Papa. Sì, perché questa è la prima commissione che Scipione Borghese, cardinal nipote di Papa Paolo V, volle affidare al giovane scultore Gian Lorenzo, e siamo intorno al 1618-1619. Nelle 1621 Scipione Borghese iniziò a pagare Bernini per un altro gruppo scultorio, per il ratto di Proserpina. Nei mesi successivi l'opera venne trasportata nella villa Ludovisi, e per dei motivi il cardinal Borghese aveva deciso di donarla a colui che gli prese il posto come cardinal nipote, cioè Ludovico Ludovisi, nipote di Papa Gregorio XV. Esso fu collocato quindi al centro di una galleria, libero nello spazio, su tutti e quattro lati, il che ci spinge, quando noi ammiriamo questa scultura, a girare intorno, mentre è pensato per un unico punto di vista, quello frontale. Sì, quello frontale, perché Bernini iniziò a distaccarsi nettamente dalla pluralità della visione che era consentita alle sculture e di gusto manierista, e quindi inizia a privilegiare un'unica fonte di luce, alla ricerca di quegli effetti luministici, chiaroscolari, coloristici, che modellano le figure scolpite. E in effetti proprio il tema, il ratto di Proserpina, sembra proprio riportare in mente il ratto della Sabina del Giambologna, ma qui c'è un netto distacco da quella scultura. Ormai il tutto sembra già realizzato. Il dio e la preda, la donna, non sono concepiti come oggetti tridimensionali, ma come figure a tre dimensioni che in realtà di grande dimensione, oltre il naturale, oltre il reale, come figure davvero costruite attraverso la luce e l'ombra. Scolpite a voler dare davvero quella virtuosismo, quell'illusione della carne viva, vera, delle mani che affondano sulla morbida carne di Proserpina. Quei capelli mossi dal vento, ma mossi dall'azione repentina del ratto. Qui c'è un'affermazione piena della scultura berniniana. La statua non rappresenta una figura, ma un'azione, un evento, un fotogramma istantaneo, un evento transitorio, fugace, concitato, animato. Viene quindi privilegiato il momento culminante di un evento, di un mito. Qui il dio afferra in un istante la bellissima Proserpina e corre verso il proprio regno. Ecco questa sensualità del mito, ma una sensualità qui resa violenta, è quella sensibilità e sensualità che guardano anche gli artisti contemporanei e che aveva introdotto la tradizione della pittura veneta. Quindi quella concezione e quella sensibilità che ritroviamo in Rubens, che ritroviamo in Pietro da Cortona. Anche nel David cogliamo quella istantaneità, quella transitorietà dell'evento, del mito e l'azione e l'istante ad essere rappresentato. A maggio del 1624 la statua risulta già collocata contro una parete della stanza del vaso al piano terreno di Villa Borghese. C'è la biografia di Domenico Bernini, figlio, che racconta che Maffeo Barberini pochi mesi prima di essere letto papa, ecco cito, con le sue proprie mani tenne a Bernini spesse volte lo specchio, perché lo scultore potesse ritrarre nel volto di David la sua faccia con un'espressiva in tutto veramente meravigliosa. E allora l'inserimento dell'autoritratto può avere a che fare con la nota e discussa tradizione con cui gli artisti sollevano rappresentarsi nel volto di David o in quello di Golia, emblematico Giorgiono Caravaggio. Ma qui è più probabile la furiosa ricerca naturalistica ed espressiva a guidare la realizzazione dell'opera. Quell'azione, quell'idea di presentare l'azione, qui raggiunge davvero il culmine. Il giovane David non ha ancora decapitato Golia, come invece lo vediamo in Donatello, in Verrocchio, non c'è qui quella calma prima dello scontro, ma è rappresentato il momento, l'apice, l'acme dell'azione della lotta. L'armatura è deposta a terra, lo vediamo, e lui si protende in avanti, si concentra su Golia, lo fissa, lo scruta, gli va incontro, sta per ruotare la fionda che è già spiegata tra le sue mani e sta per scagliare contro il nemico. Qui lo spettatore si trova davvero perfettamente di fronte alla statua, ecco, dove era concepita, cioè all'interno di una piccola nicchia, mentre adesso la vediamo su tutti i suoi lati, la Golia Borghese. Ecco, si trova alla statua e ha la sensazione di essere quasi finito inconsapevolmente sul campo di battaglia, e a questo punto, e a questo punto, che si rende conto di essere il nemico di David posto davanti ai suoi occhi. Anche nella pole Daphne, Bernini sceglie di rappresentare l'acme, l'apice del mito. Il dio riesce a raggiungere Daphne e a cingerle il fianco, ma proprio a causa di questo contatto il volto della ninfa viene tutelato nel modo più efficiente e crudele, cioè tramite la sua istantanea trasformazione in uno a loro. Qui il coinvolgimento dello spettatore è più sottile ed è tutto giocato sull'empatia che gli è portato, costretto davvero quasi a provare il dramma. Se nel David noi eravamo quasi il nemico, qui invece siamo davvero portati ad emozionarci, a vedere questa trasformazione della carne. Blocca Bernini per sempre nel marmo o un singolo fotogramma, quasi appunto davvero come fosse una istantanea fotografica. E qui tutto preso dalle metamorfosi di Ovidio come nel ratto di Proserbina, dove Apollo davvero si getta all'inseguimento della ninfa. La mano di Daphne inizia a sollevarsi, urla lei sconvolta, ma forse già si sta rendendo conto che dalle sue mani iniziano a spuntare delle foglie, dei rami. Il suo busto si sta trasformando in un tronco, un tronco che cresce a vista d'occhio intorno al suo corpo. La metamorfosi ecco del midio, l'istantanea metamorfosi dello stato d'animo dei due protagonisti trovano un perfetto equivalente nella metamorfosi in fronde e capelli che sono sparsi al vento, che viene imposta al marmo da una mano già divina, ancora quarant'anni dopo cercando di spiegare al re sole che non era facile arrivare a dare ai capelli la loro naturale leggerezza. Bernini non potrebbe trattenersi dal dire la sua e disse che se sua maestà avesse visto la sua tafne avrebbe riconosciuto che il lavoro che vi ha fatto in quel genere non gli era riuscito male. Ebbene chiudiamo dicendo che Bernini accolse per tutta la vita l'intento di piegare il marmo fino a costringerlo a comunicare sensazioni visive ed emozioni molto lontane da quelle che solitamente sono connesse a quel materiale. E nelle sculture borghese concepite per essere poste contro una parete per essere potute da un punto di vista privilegiato in realtà invadono come nessun'altra lo spazio e lo stesso spettatore.